Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Perdonatemi l'assenza di settimana scorsa, ma tra le feste, e come potete ben vedere, è cambiato il background perché c'è stato un trasloco di mezzo, veramente sono stato super impegnato e anzi ho cercato di quantomeno continuare con le live sulla piattaforma Viola, cosa nella quale sono fortunatamente riuscito, però ho dovuto sacrificare un po' le altre piattaforme. Oggi però torniamo in un'occasione molto importante, visto che hanno annunciato finalmente i candidati Toti ed è possibile votare la nostra squadra dell'anno, sia maschile che femminile, e ci tengo a farlo insieme a voi. Vi lascio qui in descrizione il link per poter accedere direttamente a quella che è la sezione dei candidati Toti, maschili e femminili, ma prima di procedere con la mia votazione ci tengo a fare una grande precisazione in merito a questo argomento squadra dell'anno, perché ovviamente il nome di squadra dell'anno lascia presupporre che all'interno di questo team ci siano giocatori che hanno performato in maniera incredibile dal punto di vista individuale o comunque dal punto di vista squadra contribuendo al raggiungimento di titoli di vittorie per il loro club di appartenenza. Adesso però questo si va un po' a scontrare da quando è stata introdotta la possibilità di votare, quindi è stata chiesta la voce della community con quello che è il sentimento del giocatore di FC, che predilige ovviamente giocatori che possano rendere anche bene all'interno del gioco, perché prendiamo ad esempio, buttando lo sguardo rapidamente sulla sezione dei centrocampisti, credo che nessuno di noi vorrebbe vedere un Alexander Goloven, Toti all'interno di questa squadra, anche sebbene magari il Monaco in un futuro ipotetico avesse vinto la Champions, mentre al contrario, anche se un Federico Valverde ha performato meno, farebbe molta più gola. Quindi, nei commenti scatenatevi e fatemi sapere in base a quale criterio voi andate a fare la vostra votazione. Io cercherò in maniera abbastanza imparziale, andando a mitigare un po' le due correnti, quindi cercherò di essere comunque abbastanza fedele a quello che è stato il calcio reale giocato, ma in particolar modo in alcuni reparti lascerò andare un po' quello che è il mio sentimento di giocatore di questo videogame e che vuole vedere determinati player upgradati nella loro versione migliore possibile. Eccoci dunque sulla classica schermata di votazione che prevede un team schierato con il 4-3-3, modulo ufficiale da sempre della squadra dell'anno. Partiamo dal portiere, portiere che, come potete ben vedere, ho già schierato, perché credo che sia l'unico reparto dove, veramente, essendoci un solo giocatore, non abbiamo dubbi, ho messo Ederson del Manchester City, perché tra gli altri candidati, che erano Alisson, Samba, Cobel, Chesney, Mignan, Oblak e Ter Stegen, credo che lo meriti più di tutti, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista di FC. Ovviamente è stato l'artefice del triplete del Manchester City, è stato, ovviamente, all'interno del gioco fino ad ora uno dei portieri più usati, visti i link che magari può dare a Walker, a De Bruyne e a altri giocatori come Holland, ad esempio, e quindi mi aspetto di vederlo titolare all'interno della squadra dell'anno di FC24. Passiamo adesso alla linea 4 di difesa, e troviamo tra i candidati Allora, io qui mi attengo a quelli che sono i ruoli, quindi per me a sinistra ci va un terzino sinistro, o comunque un laterale in una difesa a tre, i difensori centrali, i difensori centrali, a destra ci va il terzino destro, cosa che di solito avviene anche poi nella scelta finale di questi giocatori. Come terzino sinistro, onestamente, tra quelli che sono papabili, ovvero Di Marco, Teo Hernandez, Grimaldo, Gaia, Io mi sento di andare a premiare quella che è stata la stagione 2022-2023 e anche l'avvio della stagione 2023-2024 di Federico Di Marco, che comunque protagonista è stato nella stagione, nella finale di Champions raggiunta dall'Inter, protagonista di questa prima parte di campionato nella quale l'Inter è in vetta, chiuso come campione d'inverno in Serie A, io vado a selezionare il terzino italiano dell'Inter. Tra i difensori centrali, invece, qui abbiamo un po' più di casino, perché ci abbiamo svariati giocatori che meriterebbero di uscire, penso ad esempio ad un Kim per la stagione del Napoli, penso a Stones e Ruben Dias per la stagione del City, penso anche ad un Bremer, magari se voglio ragionare in ottica FC, perché già ha preso delle belle versioni speciali, però io credo che il perno inavomibile sul quale partire sia Ruben Dias, che nella coppia tra lui e Stones mi piace di più, anche perché so che su FC 24 sarebbe fortissima Nosa Carta Toti, e quindi come primo perno della nostra difesa vado a inserire lui. A fargli compagnia, io qui onestamente ho un'indecisione, un dubbio. Tra Kim Min-Jae, che è stato uno dei protagonisti assoluti della stagione del Napoli, dello scudetto, è proprio Stones che insieme a Ruben Dias ha protetto le spalle di Ederson e contribuito al vittoria del triplete. Ci sarebbe anche Van Dijk che mi solletica il palato da giocatore di FC, però diciamo che questo aspetto voglio farlo prevalere più avanti. Quindi diciamo che tra Stones e Kim Min-Jae, per aver messo già Ruben Dias, voglio andare a premiare la stagione di Kim al Napoli, e poi il conseguente salto di qualità che ha avuto andando al Bayern Monaco. Laterale di destra, anche qua un ruolo nel quale abbiamo diversi giocatori, abbiamo Alexander Arnold, abbiamo Klaus, abbiamo Di Lorenzo, abbiamo anche Kondé che potrebbe andare in quel ruolo, visto che lo ha già fatto in alcune versioni, e abbiamo Jesus Navas. Jesus Navas ha raggiunto e vinto la finale d'Europa League contro la Roma col suo Siviglia, Di Lorenzo, capitano del Napoli della Meraviglia e di Spalletti. Anche qua, avendo già premiato io un giocatore del Napoli, ovvero Kim, stavolta vado ad inserire Jesus Navas, visto che comunque ha fatto parte di questo Siviglia, che ha un po' faticato in campionato, ma è stato autore di una grande cavalcata invece in Europa League, che è un po' la sua coppa. Veniamo al centrocampo, anche qua un ruolo veramente strapieno di giocatori. Troviamo tre candidati, Odegaard, Di Clan Rice, Mitoma, Bernardo Silva, De Bruyne, Rodri, Bruno Chimaraes, Bowen, Goloven, Birz, Ciaka, Musiala, Sané, Brandt, Grifo, Barella, Chiesa, Rabbiò, Marez, Milinkovic, Pedri Gundogan, Alex, Garcia, Bellingham, Kroos, Modric e Chwamey. Anche qui io direi di partire da quella che è la mia unica certezza. E la mia unica certezza, perché cascasse il mondo, sono anni e anni che esce Toti e soprattutto nell'anno del triplete della sua squadra, nonostante nella fase finale per via di qualche infortunio non sia stato protagonista, io vi vado ad inserire Kevin De Bruyne, che non ha bisogno di presentazioni. Vicino a De Bruyne, un giocatore che ha fatto un ottimo 22-23, e ha iniziato alla stragrandissima il 23-24. E chiaramente sto parlando dell'unico inimitabile Jude Bellingham, che quest'anno si è riscoperto anche goliador, sta facendo dei numeri impressionanti, ed è uno dei prossimi crack del calcio mondiale, un predestinato totale. Nell'ultimo slot, vi dicevo prima la mia sensibilità di giocatore da FC 24, perché mi verrebbe da dirvi, ha ovviamente furor di onori, di andarci a mettere Rodri, autore del gol vittoria della Champions, uno dei giocatori chiave nello scacchiere di Guardiola al Manchester City, così come ci sarebbe anche un Bernardo Silva, che gli potrebbe contendere lo scettro. Però, io da giocatore di FC, qua mi voglio spendere il jolly, che non mi ero speso in difesa mettendo Van Dijk, e io questo jolly me lo voglio spendere andando a mettere Federico Valverde, e immaginando una sua versione Team of the Year, che avrebbe veramente dell'incredibile. Veniamo agli attaccanti, attaccanti dove anche qui abbiamo diversi candidati, abbiamo Saka, Salah, Grealish, Holland, Son, Dembélé, Likangin, Mbappé, Colomuani, Kane, Nopenda, Girassi, Martinez, Leao, Kvara e Osiman, Berardi, Taremi, Benzema, Cristiano Ronaldo, Griezmann, Morata, Lewandowski, Vinicius, Kubo, Gerard, Moreno e Messi. Anche qua io direi di partire dalla certezza, la certezza è una sola, perché ogni anno il vincitore del pallone d'oro non può non uscire Toti. Quindi il mio primo tassello lo vado a mettere a destra nel suo ruolo storico ed è Lionel Messi. Giocatore che ovviamente sulla via del tramonto all'Inter Miami, però lì nella squadra dell'anno ci deve essere assolutamente. Un altro giocatore che deve essere presente assolutamente all'interno della squadra dell'anno e si sposa perfettamente anche con il ruolo di attaccante sinistro è Kylian Mbappé, giocatore che pare nelle ultime voci stia per andare a Real Madrid e quindi realizzare il suo sogno visto che ci voleva andare da un secolo, però lui anche qua, pur non avendo vinto granché a livello europeo, è un crack totale, una realtà ormai definita del calcio mondiale e io lo dobbiamo mettere. L'ultimo posto qua se la vanno a contendere un po' perché ci si potrebbe mettere Osimane, ci si potrebbe mettere Ronaldo che è stato il miglior marcatore di quest'anno nell'anno solare, si potrebbero mettere diversi giocatori, ma amici miei, già gli hanno rubato il pallone d'oro, ma chi sono io per non mettere Erling Holland qui come prima punta? Assolutamente, a chiudere questa squadra ci mettiamo l'attaccante norvegese. Qui non c'è il dodicesimo che si può votare ancora, ma io immagino che il dodicesimo Toti sarà una battaglia a due tra Cristiano Ronaldo e Vinicius Junior, con quest'ultimo forse leggermente avvantaggiato, ma il primo sappiamo che ha una fanbase immensa. Quindi questi sono i miei undici uomini dell'anno. Passiamo invece adesso al miglior undici femminile. Qui ovviamente metto le mani avanti, non sono un grandissimo cultore di calcio femminile, so che l'anno scorso è stato fatto il triplete dal Barcellona, la Spagna ha vinto il mondiale in finale contro l'Inghilterra. Passiamo adesso invece alla votazione femminile della squadra dell'anno, appunto, femminile. Passiamo invece adesso a quella che è la votazione della squadra femminile dell'anno. Metto le mani avanti, in questo caso so qualcosa, so che il Barcellona ha fatto il triplete, so che la Spagna ha vinto il mondiale in finale con l'Inghilterra, ma tolto questo, diciamo che non è che ho queste grandi informazioni, andrò più quello che è il sentimento mio di FC24 da giocatore di quello che vorrei vedere in gioco, piuttosto che sui meriti sportivi. Partiamo dai portieri, portieri dove troviamo la Handler, la Herbst, la Fromps, la Nadozi e Campbell. In porta metterei la Herbst, portiere dello United, della nazionale inglese che ha sfiorato il mondiale, tra l'altro anche al momento contesa tra Real Madrid e altri top team europei, visto che va in scadenza, ti è una chicca. Vediamo i difensori, i difensori abbiamo la Renard, la Mapileon, la Paredes, la Carciaui, la Rolfo, la McCabe, Bright, Bacia, Ona Battle, Ilested Carpenter, Vigos Dottir, Charles, Girma, Olga Carmona e Nikeswonger. Partiamo sempre dal terzino sinistro, possiamo scegliere tra la Rolfo, la Carciaui, la Bacia, che già c'è una carta molto forte, la Olga Carmona, la mia scelta però ricade sulla Fridolina Rolfo. Giocatrice che al momento non ha avuto ancora una carta speciale, ha fatto un avvio di stagione da infortunata, ma devo ovviamente inserirla perché vorrei vedere una sua versione speciale. Nella coppia di difensori centrali invece io vi vado a piazzare sicuramente la Mapileon, anche lei ancora non ha preso una carta speciale e merita di finire nella squadra dell'anno, secondo me. Al suo fianco andrei a mettere la giocatrice francese dell'Ione, Walid Renard, che è una delle giocatrici più alte, se non la più alta, e rischierebbe di essere un po' il Van Dijk del calcio femminile in questa versione. A destra qui, per rimanere sempre in tema terzino destro, e quindi scegliere uno che effettivamente faccia il terzino destro di ruolo, onestamente io qui vado a schierare la Ona Battle, che già ha preso delle evoluzioni simpatiche che la vanno diventare abbastanza OP, quindi vado a vedere questa versione Toti come mi diventa. Nelle votazioni centrocampiste troviamo la Putejas, la Bommati, la Guiarro, De Binia, Oberdorf, Gheioro, Welsh, Matteo, Weir, Stanway, Santos, Manum, Tinei, Minj, Caroline Nicolì, Panini, Dunst e Coffee. Qui non me ne vogliate, non me ne voglia la De Binia, la Oberdorf che comunque è nel Fosburg, ha fatto un'ottima stagione, la Gheioro, ma ragazzi miei, io qui vi devo mettere Aetana, Bommati, detentice del pallone, d'oro in carica che ha fatto una stagione pazzesca. Vi metto anche la Patri Guiarro, perché si è affermata sempre più nella passata stagione e anche lei sono curiosissimo di vedere in una versione Toti e poi, lo sapete il debole che io ho, devo mettere la Putejas, la mia regina, nonostante l'anno scorso si sia fatta praticamente tutto il campionato da infortunata, quindi non giocando, ritornata solo per fare scampoli al mondiale, scampoli in finale di Champions, la calciatrice più forte di questo videogame va inserita a mani basse. Davanti poi invece troviamo la Kerr, la Hansen, la Diany, la Rayten, la Pop, la Smith, la Pyre, la Amp, la Schuller, la Parraluelo, la Kundanangi, la Williams, dalla Dalí, la Kelly, la Sommer, la Rodman, la England, la Redondo, la Chawinga, la Kosler e la Caicedo. Anche qui partirei da quelle che sono le certezze, certezze lì nel ruolo di esterno destro, Carolina Graham Hansen, una carta pazzesca, quest'anno l'abbiamo già vista, ma anche autrice di una grande stagione, soprattutto di un inizio 23-24 clamoroso, con 12 gol, 11 assist, una roba veramente da fenomeno del calcio femminile. Per il ruolo di attaccante centrale, onestamente io qui ero un po' indeciso, perché il mio gusto personale mi farebbe schierare la Salma Parraluelo, ma visto che una versione speciale l'ha messa a sinistra, ci pensiamo dopo. E ovviamente nel ruolo di punta devo mettere Samantha Kerr, seconda classificata al pallone d'oro, autrice di una grandissima stagione, riconosciuta tuttora come una delle calciatrici più forti all'interno del panorama femminile. A sinistra anche qui avremmo svariate scelte, perché potremmo mettere la Gurore Ten, vi ripeto la stessa Parraluelo, la Kelly, ci sono tutta una serie di giocatrici che potrebbero rientrare in quel ruolo lì, però io per una questione di curiosità personale, anche per una questione di link, vi vado a mettere la Parraluelo, giocatrice molto giovane, anche lei un 23-24 scoppiettante in questa prima fase di temporada, ma anche l'anno scorso ha partecipato alla campagna vittoriosa del Barcellona e a quella della Spagna in nazionale. Quindi questo è il mio 11 femminile che va così a chiudere le votazioni Toti per FC24. Ragazzi, per questo video è tutto, ci stiamo avvicinando al periodo più bello dell'anno, quello della squadra Toti che ci aspetta e che ci farà spacchettare come De Draghi sperando di trovare qualcosa. Nei commenti fatemi sapere chi avete votato, chi voterete, e se siete d'accordo con le mie scelte, e se siete team calcio giocato, o team me ne strafrego, voto chi voglio vedere nel gioco. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto nel vostro Riberoski, e a presto. Ciao.